La 23 è iniziato a scendere quando ancora non ero partita ecco Matte come si chiama questa pista? è tutta cimposa ah bellino, bellino questo murettino cos'è? un momento una merda no perchè? non volete fare mentre si va? no ma io no ne ho ne ho facciamo metà ne ho vabbè guardate guardate devi mettere la roba allora c'è una macchua e e portami i bastoncini vai ora mi porti ti riporto e ci sono un po' e e e e e operativi? si provate a filmare il volo è problematico Eccolo lì, ciappi a terra. 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 Grazie.